Un saluto a tutti, a tutti quelli che si sono messi in contatto con questa pagina da parte mia, Enrico Marchi, psichiatra, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Lucchese Arte e Psicologia, che in questa occasione collabora, come in altre peraltro, con la Fondazione Mario Tobino di Lucca, con la Caritas Diocesana di Lucca e con la Società Medico-Chirurgica Lucchese, avendo anche, come altre collaborazioni, l'AIL di Lucca, l'Arcat Toscana e l'Associazione Archimede. Oltretutto, il patrocinio del Comune di Lucca ci dà la possibilità di diffondere, sul territorio lucchese e non solo, anche provinciale, questa iniziativa, che si chiama Psycho Hub, è un punto di ascolto e di consultazione in tema di benessere mentale. Stiamo attraversando un periodo molto difficoltoso, molte persone sono in difficoltà, si va appunto da disturbi del sonno, a disturbi d'ansia, a stati anche depressivi, ma a volte basta avere una persona che ti ascolta, che ti dà una mano o ti spiega anche come poter accedere a dei percorsi terapeutici veri e propri, siano essi farmacologici che psicoterapeutici. Ecco, a volte basta un momento come questo per poter poi, come dire, risolvere oppure anche nell'immediato sentir subito un beneficio e un miglioramento. Ecco perché ci siamo messi a disposizione tutte le mattine, con la possibilità appunto di telefonare o anche per via web, di trovarsi con degli specialisti del settore, il settore della professione d'aiuto in campo psicologico e psichiatrico, che gratuitamente, grazie a questa organizzazione, si mettono a vostra disposizione. Non è una cura, è un momento di ascolto, un momento di ricerca anche per voi di una strada, e noi siamo qui a vostra disposizione. Buone cose a tutti e telefonate al numero che troverete impresso nella locandina qui a Clusa.